Pietro smusi è possibile selezionare la faccia del proprio personaggio Bahadur mi sa che ha aperto una kebaberia da poco ad Arezzo Jalali l'ho visto in piazza a Guido Monaco, giusto qualche minuto fa se mi guardi male io ti spacco la faccia compra compra prezzo buono due euro due euro fasolito fasolito braccialito braccialito ombrellino ombrellino questa è la faccia da pedofilo Nene 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 no ma Pietro smusi è questo c'è poco da fare guarda che fiero ecco questa deve essere la mia voce